Dimmi, va tutto bene, zietta? No, non va bene proprio niente! Sono intrappolata in una sfera di cristallo mentre Dorothy, la signorina perfettina, è a Oz! Ok, è stato bello averne parlato, di nuovo! Devo dare da mangiare alle scie mie, ciao! Non così in fretta! Non è per questo motivo che ti ho convocata! Ops, ok, allora... Dimmi, che c'è, mia carissima zietta? Beh, ce l'ho fatta! Penso di aver trovato il modo per uscire dalla prigione di cristallo! Avvicinatevi! Un po' troppo vicino, Lyman! Allora, qual è il piano, zietta? Lancerò un incantesimo sulla sfera di cristallo! Voi dovete fare in modo che la malvagia Dorothy tocchi il vetro e la sfera la trascinerà dentro con me! Correggimi se sbaglio, grande altezza della cattiveria, ma questo non ti farà uscire da lì, anzi porterà Dorothy all'interno della sfera di cristallo! Lo so benissimo, scimmia sempliciotta! E questa è la parte ingegnosa! Per uscire, Dorothy dovrà battere i tacchi tre volte e quando lo farà... Puff! Sarò fuori di qui anch'io! Sì, ma è esattamente come riusciremo a far toccare la sfera a Dorothy! Io so come fare! La inviterò per un tè come offerta di pace! Tranquilla, zietta! Ti faremo uscire da lì in un baleno! No, dobbiamo farlo per forza, Dorothy! Dobbiamo! Non voglio entrare! Non voglio! Wilhelmina ci ha invitati e noi seguiremo la retta via! Preferisco seguire il sentiero dorato fino a casa nostra! Ehi, Wilhelmina! È la signorina perfettina e i suoi amici babbè! Ah, Dorothy e i suoi leali, dolci e premorosi amici! Non fate caso a questi due zucconi! Comunque, grazie per essere qui, prego, entrate! Quella è la sfera di cristallo! Sì! Oh, non avere paura! È una vecchia sfera vuota adesso! Va tutto bene, puoi toccarla se vuoi! No, grazie! Ho visto abbastanza! Coraggio, mia cara! Insisto, davvero! E tocca la sfera, piccolo perfettina! La strega malvagia! No! C'è mancato poco! C'è mancato poco!